Civil Week 2024, Cooperativa Labriola, Municipio 8, zona Bonola, così giusto per darvi qualche indicazione geografica e siamo in compagnia di... Marika Michalazzi e Umberto Mario Garipoli Perché oggi qui al Circolo Cooperativa Antonio Labriola si parla di libri, non solo si parla, si fanno anche a un certo punto, giusto? Sì, più o meno, racconti brevi Allora, oggi ci sarà un laboratorio di scrittura creativa dove a chi verrà verrà dato, diciamo così, delle informazioni sull'ossatura della trama di come si fa una storia, di quando una storia si può definire tale e di come creare una storia, ecco, tutto qui Tutto questo dopo la presentazione di un libro però, che è Sacche d'Estate Sì, il libro è Sacche d'Estate ed è un libro che parla di una, diciamo così, distopia felice Dove il mondo è andato incontro a un cambiamento climatico ma inverso al nostro Cioè invece che un progressivo riscaldamento c'è un progressivo raffreddamento Ok, quindi tutta la storia è ambientata sotto la neve, diciamo così Ah, molto interessante Poi a un certo punto arrivi tu, Marika, perché insomma facciamo anche altro oggi qui alla Cooperativa Labriola Di cosa parliamo con te nel pomeriggio? Io parlerò delle utopie, del genere narrativo delle utopie come si sono sviluppate dal 400 dalla prima utopia, diciamo, ufficiale che è La città delle dame di Christine de Pizan fino a come oggi sono interpretate le utopie L'utopia è un genere narrativo speculativo molto particolare perché tecnicamente immagina una realtà che non poteva essere cioè una realtà dove le donne potevano vivere in comunità in cui erano loro stesse a decidere In questo caso appunto parliamo proprio del tema del femminile, del tema delle donne l'utopia, no, la domanda che ti faccio, è mai successo che si pensava qualcosa fosse utopico poi in realtà invece... Eh sì, è esattamente quello è successo con le utopie era utopico pensare che una donna potesse votare, gestire i propri beni, gestire i propri figli e al fine nel 1920 questo comincia a succedere C'è stato un momento in cui questa era pura utopia ma quando mai succederà e poi diciamo per fortuna invece è successo Esatto, esatto Ho paura di sapere se c'è un'altra utopia che invece per sfortuna sono successe Quelle sono le distopie Ah ok, perfetto E sono le distopie sociali appunto Ok, ne sai così tanto perché prima l'ho intervista in una delle sacche che ti sei portata dietro perché tu hai studiato questo tema tanto che è la tua tese di laurea Sì, io sono lavorata in storia antica e medievale e scienze storiche e comunicazione noi siamo fumettisti e autori anche di narrativa e la mia tesi specialistica è stata appunto la storia delle autrici fantastiche italiane negli ultimi 300 anni quindi sono andata a recuperare tutta una serie di informazioni riguardo a tutti quegli autori della protofantascienza italiana e di come si sono generate effettivamente i generi narrativi quindi questa enorme anche differenza tra l'utopia e la distopia oggi possiamo parlare di solar punk che è questa nuova corrente della fantascienza che parte da un orizzonte diciamo distopico in cui in realtà non è più un futuro indesiderabile perché è già qui, perché già a metà del mondo vive in una situazione incredibilmente critica però con una impronta molto più utopica cioè non è tutto perduto ed è anche quello di cui parla appunto il romanzo di Umberto che è ambientato qua praticamente, poco fuori Milano dove me l'hai ambientato? ho ambientato questo romanzo in una cittadina nel nord ovest Lombardo che è più o meno dove vivo io, sono di provincia sono di Parabiago ti dovi dirgli i nomi noi siamo malati di toponomastica, malati di geografia ma il paese dove ho ambientato il mio romanzo non esiste l'ho inventato io, si chiama Calignate ed è un paese che è la classica provincia milanese Agoate e sempre queste parti esatto, infatti per quello Calignate, anche Ate, Ano, Ago eccetera quindi mi sembrava giusto dare spazio anche alla provincia in quanto tale perché ogni tanto viene trascurata diciamo da questo punto di vista ha parlato di solar punk, io ero rimasto al cyber punk che cos'è questo invece? è una sorta di, diciamo così, di fantascienza più felice possiamo dire così come ti ha spiegato prima Marika appunto di sole nel mio romanzo ce n'è veramente poco e anche di ottimismo in realtà fino alla fine è andato fuori tema il dato sì, allora in realtà sì, il solar punk si occupa proprio anche di queste cose cioè parlare di criticità momentanea cioè critica sociale, critica ambientale però non in quella chiave assolutamente negativa per cui le distopie moderne se ne occupano quindi non è tutto brutto è un modo anche e soprattutto tratta appunto dei personaggi che quando fanno comunità e si riuniscono riescono a risolvere le loro situazioni ecco, è interessante che per la Civil Week ci mettiamo proprio qui davanti alla cooperativa L'Abraola per la Civil Week hai immaginato appunto una giornata intera dove si trattano questi temi come va proprio, hai voluto ambientarlo durante la Civil Week e soprattutto, insomma, questi libri che tanto tutti mi strattano che nessuno legge ma forse no, al fine non è proprio così allora, più che il libro in sé parlo in generale dobbiamo ragionare più sulle storie c'è sempre bisogno di raccontarle le storie e anche saperle fare diciamo, è un'arte ma è anche tanta fatica e volevo anche con il laboratorio appunto far vedere veramente quello che c'è dietro una storia uno ha sempre questa immagine dello scrittore con il caffè alla sera, con il gatto sulle gambe che scrive... hai un gatto? no non ho un gatto? no ok, bravissimo, ottimo sembra in piena... ok, però in generale l'immagine un po' cliché è questa io quello che voglio fare è anche con il laboratorio c'è ancora chi vi vorrebbe con la macchina da scrivere è un bell'oggetto ma è poco pratico nel tempo che viviamo quindi quello che volevo fare io è un po' scardinare questi cliché e cercare di far capire come è possibile creare una storia e qual è l'importanza di creare una storia ovviamente ogni storia ha un messaggio, c'è un'idea che la accompagna però cercare di veicolarla al meglio possibile ora le storie sono solo quelle di Instagram mi vorrebbe da dire però ce ne sono tante altre che dovrebbero essere esplorate quanto boomer in questa frase ma quanta realtà però in me devo dire la verità quindi davvero grazie mille allora per il vostro tempo grazie per quello che oggi andrete appunto anche ad insegnarci perché diciamo cioè dobbiamo anche imparare spesso voglio dire che insomma appunto oggi ho scoperto la differenza tra utopia e distopia che io usavo tranquillamente così come se sapessi invece no, c'è una differenza, dimmi dimmi Marika i nostri laboratori partono proprio dal principio del fatto che il fantasy, la fantascienza e i generi speculativi sono appunto un genere narrativo all'interno da sempre gli autori e le autrici raccontano la loro quotidianità per criticarla quindi tramite la satira, i fumetti, la letteratura è sempre stato un modo di criticare e quindi immaginare una nuova realtà se io immagino di poter avere un giorno dei diritti per tutti già il fatto di immaginarlo è un gesto rivoluzionario noi facciamo anche laboratori per bambini e vediamo quanta difficoltà hanno i bambini a riuscire a esprimere delle loro idee che sono bellissime ma non hanno gli strumenti per farlo e quindi noi con questi laboratori glieli insegniamo glieli passiamo così un giorno saranno in grado di poter raccontare non tanto una storia di fantasia ma poter raccontare il loro progetto picciare un loro progetto e sapere chiudere bene un loro tema quando devono andare agli esami ecco forse allora serve anche a me per riuscire a chiudere bene le mie interviste perché poi sbrodolo sempre e anzi chiedo scusa agli amici di Shell Radio se siamo sempre così lunghi ma io non poi mi interessano quindi io vado avanti a fare domande grazie mille davvero grazie e buona Civil Week a voi e anche a voi che ci state ascoltando grazie a tutti i nostrirati grazie a tutti i nostrirati